È tutto quello che sai fare? Non sei tanto tosto senza il tuo animaletto, eh? La vedrai la volontà di sopravvivere! Mocciosi guastafeste. Ho visto la vostra volontà di combattere. È ora di decidere. Che cosa dici? Questo mondo appartiene a voi? Oppure a Zanza? Allora? Per me è indifferente. Mi chiedo cosa ne direbbe Zanza. Egli ha lo stesso desiderio. Lui è in grado di vedere tutto. Così come te, Shulk. E come dice lui? Tornate qui! Tu lo capisci? Non è vero, Shulk? Già. Puoi scommetterci, stanne certo. Aspetteremo. E vi accoglieremo a braccia aperte. E noi saremo i migliori ospiti che avete mai avuto. Che ritorno in grande stile, Shulk. Sono colpito. Sto tremando. Sto tremando. Io. Stupido ragazzino in piccione. Dopo tutti questi anni, non immaginavo sarebbe arrivato il giorno in cui avrei provato paura.